Daiane, perché ti fa pena Stefania? Eh, perché... allora, perché comunque... come posso dirtelo? Non lo so, Afonso, perché non dovrebbe rilassarsi un po' di più e non pensare solo in strategia, in gioco, cioè... Lei vuole sempre dire che io sono quella che faccio la vittima, che sono quella che litiga, sempre cerco di fare dinamica. Che invece io, dicendo le cose che penso... Però le strategie di gioco le fanno tutti, anche tu, nei giorni scorsi hai fatto delle strategie di cordata con Carlotta, Samantha, quindi voglio dire, anche tu sei come Stefania fondamentalmente, o no? In strategia no, qua si parla di quello. Eh, allora capisci, perché parli tu, non è strategia perché l'Orlando è strategia. Però non è neanche un portare e riportare, non è neanche un portare e riportare, perché... Grazie a tutti.